minchia che merda guarda che il barbareppio vuole entrare anche lui corso base perché gli altri e vedo che non si sentono più quindi gli ho detto bene vai a fare il corso e dopo andiamo ma che adesso lo faccio spaventare mamma mia che spavento no eh si aspettata che era di là era aspettata che era di là ma lei guai ma stai scherzando a lui poteva anche buttargli la la moto un momento tanto era di là non l'avrebbe fatta cadere qui ragazzi so già tutto bevi meglio così subito che lusso è un'altra roba ho fatto 12 con quell'altra sì ma tradire mi trovo bene non la cambio più conosco i fogli ormai se devo scambiarla prendo come quella che c'era lui buona figata se dovessi cambiarla vedi cambio no è il 301 il 301 ma è solo per questa tutti stessi dica Luigi tutti stessi il pilota che dopo deve andare ma va a essere matta oh sei matta no stai attendo sulla in cima che c'è un buco nella rete no brava guarda tutta imperata bravissima è così che si devono sfogare se fai il mio così mi divendo infarto il guido il guido no l'angelo c'è il 3 l'ha già cambiato ancora anche lui ormai non ci si sta dietro più nessuno non c'è la fresca c'è poco da fare quant'è? 8.000? 10? via 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 via